Esponente del Partito Democratico, artefice della manifestazione di ieri in piazza San Babila, che ha così commentato in un suo Facebook Eravamo in 15.000, Salvini non ti daremo tregua. Maiorino, che cosa significa? Ma io credo che ieri si sia vista una cosa nuova. Ci sono stati due grandi fatti. Da una parte questa nuova alleanza Salvini-Orban che ancora più di prima si è materializzata e dall'altra il fatto che finalmente c'è stato un popolo che si è messo in movimento nel dire no. Dico popolo perché non ne posso più di questa rappresentazione di questi mesi per cui ci sono l'élite con Salvini, o meglio l'élite con l'opposizione a Salvini e il popolo col Ministro dell'Interno. È una rappresentazione tutta assolutamente strumentale e utile a rafforzare questa immagine di un'Italia tutta d'accordo con Salvini. Non è così. Ieri si è vista una città che in un pomeriggio di agosto si è mobilitata. Ovviamente so bene che ci sono tanti milanesi che sono d'accordo con Salvini come ci sono tantissimi italiani che sono d'accordo con Salvini però noi non ci stiamo di fronte a questo tentativo di usare gli immigrati per distruggere l'unità europea perché questo è il vero progetto politico molto più che tante altre cose. Di sicuro un milanese che non è d'accordo...